Passiamo al 1970 e parleremo di uno dei personaggi forse più incompresi di tutta la storia della musica. Sto parlando di Roger Chapman. Lui aveva una voce roca e molto potente. Stavo dicendo incompreso dalla musica ma incompreso lui e il suo gruppo, il famoso gruppo dei family che tutti gli amanti del rock, blues, eccetera, hanno sicuramente amato e seguito. Quindi lui riesce a guidarti attraverso la sua musica nei meandri musicali più nascosti, più strani, più particolari. Nel 1970 arriva sul mercato l'album A Song For Me, questo è il titolo che denota tutta l'abilità del gruppo e la loro maestria nel produrre musica di rilievo. Da questo album del 1970, ripeto, ci ascoltiamo un brano che ha per titolo Wheels, family. sull'alba, 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 sull'alba. sull'alba, 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 sull'alba. sull'alba, 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 sull'alba Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.